Il primo accessissimo derby in terza categoria, atletico Torvajanica contro Virtus Ardia. Massimo Benedetti incontra il suo più recente passato, lo fa in un momento non felice, ancora a secco in classifica. 15 minuti tesi e spigolosi, poi la prima occasione per l'atletico, con Morabito a liberare Paparella che va sul fondo e la restituisce, ma Morabito da posizione ottima fallisce. 10 minuti più tardi il calcio piazzato di Morabito va a cercare lo stacco di Manca di Mores, deviazione di Miola, ma Pellegrino è pronto. Sul ribaltamento di fronte si fa trovare sbilanciata la squadra di Benedetti, Centini va in percussione, poi apre bene, sulla destra per Venditti che controlla e di controbalzo trova il diagonale vincente. L'acuto di Venditti al 26esimo porta in vantaggio la Virtus Ardia che dopo una manciata di minuti fiuta il raddoppio con il calcio di punizione di Vaccaro, palla che scende pericolosa e Buffoni si rifugia in corner. Al terzo di recupero Christian Bergami va con la sventagliata a cercare Paparella, buono lo stop, bello il sinistro al volo che sfiora il palo un attimo prima dell'intervallo. Nella ripresa l'atletico Torvajanica molto più grintoso, si conquista una punizione dopo due minuti, la va a battere De Cristofaro, parabola interessante ma non impossibile, Pellegrino ci mette del suo ed arriva così il pari, 1-1 proprio in avvio di secondo tempo. L'atletico festeggia e prova ad inseguire il bottino grosso con la lunga rimessa di Manca di Mores, palla che attraversa l'aria, mezzo liscio di Maranga e Mortellaro spara troppo alto da posizione favorevole, ma proprio in un buon momento arriva il pasticcio. Diletta gigioneggia e perde pericolosamente la sfera, riparte allora l'Ardia con Venditti che si guarda intorno e opta per la soluzione migliore, ovvero Russo che si inserisce dalla sinistra e piazza il pallone in rete tra le gambe dello sfortunato Buffoni. Ritorna avanti la Virtus Ardea capitalizzando in ripartenza Fulmini all'errore dell'avversario che poi fatica a riprendersi. Inizia il Di Fabio Shaw che prima riceve da Soddu e spizza di testa con Buffoni a togliere il pallone dall'angolino, subito dopo la lunga rimessa è ancora per lui che prova il gran gol in spaccata, ma la palla finisce sul fondo. E' sempre Di Fabio a rendersi pericoloso a 5 dal termine approfittando di un altro disimpegno rivedibile del Torvajanica, il numero 16 dopo il dribbling prova il destro che supera di poco la traversa. Negli ultimi minuti l'Atletico prova il tutto per tutto trascinato da De Cristofaro ma il risultato non cambia più. 2-1 per la Virtus Ardea che vince il derby e vola a 6 punti, la squadra di Benedetti ancora alla ricerca della giusta medicina.